Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, cambio di location per mostrarvi la mia libreria in cantina che sta crescendo piano piano con la mia collezione di Topolino ma non sto qui per parlare della mia collezione, non è il momento ma prima o poi chissà ne parleremo, ma siamo qui come classico appuntamento settimanale per parlare di Topolino Topolino con il numero 3550, ragazzi siamo mercoledì ormai sono le 17, anzi sono le 18 e sto per registrare questo video, lo caricherò subito, non mi è arrivata la copia in abbonamento, addirittura la copia digitale sull'applicazione non è stata ancora caricata, fino alle 16 sono stata a controllare e alla fine ho deciso di andarlo a comprare in edicola, perché? perché avevo troppa voglia di leggerlo, il buon Gaspar del canale Aspano83 e i suoi fumetti mi ha parlato già più o meno delle sue impressioni, non ho ancora guardato il suo video né quello di Ali From The Block, li guarderò come faccio sempre dopo aver registrato il mio video così da non farmi influenzare, ma ormai ci siamo, parliamo di questo Topolino. Ragazzi vi avviso subito, allarme spoiler, questo video sarà pieno di spoiler, non come gli altri video in cui abbozzo solo la trama di ogni storia, ma qui mi sono lasciato andare perché per farvi capire tutte le storie presenti in questo albo ho dovuto spoilerare per forza qualcosa, quindi se non avete ancora letto il Topolino, stoppate il video, andatevelo a leggere e poi venitelo a guardare e commentare insieme, grazie. Eccoci qui dunque con il Topolino numero 3550, con questa bellissima copertina disegnata dai soliti Andrea Freccero e colorata da Andrea Cagol, con questa superficie più plastificata, dal sapore quasi di una variant, chissà se questo cambio di materiale, perché penso lo sappiate, il Topolino normalmente è opaco, invece questa è praticamente tipo plastificata, quasi lucida, anzi è lucida si vede, chissà appunto se sarà una trovata solo dei numeri natalizi, questo i prossimi due che vedremo nelle prossime due settimane, o se sarà proprio un cambio di materiale, perché sembra anche più resistente così la copertina, però penso che così sia anche più costosa, quindi può darsi che sia solo una cosa provvisoria per Natale. Natale ragazzi, Natale che in questo numero è sia il protagonista, ma è anche assente, adesso lo vedremo meglio. Vediamo il chiaritire a Paperopoli con Zio Paperone che dice che accetta regali, ma non ne farà nessuno, perché così è una dimostrazione per far capire che a Natale sono tutti più buoni. Vediamo poi la pubblicità di Nintendo Switch, è l'editoriale di Alex Bertani che introduce già l'album dicendo che questo numero che stiamo per sfogliare sarà davvero strano, un numero molto strano e introduce le varie storie con Zio Paperone e la lampada bisestile e tutte le altre che andremo a vedere. E in più ci anticipa anche che sul numero di Natale, ovvero il numero in uscita il 20 dicembre, il 3552, quindi tra due settimane, uscirà una storia disegnata da Harild Middun e sceneggiata da Francesco Artibani con protagonista Paperinic. Io, essendo un grande fan del Vendicatore Mascherato, non vedo l'ora di leggere quella storia. Proseguiamo con la sketch cover di Andrea Freccero e iniziamo con Zio Paperone e la lampada bisestile, anche se qui vedo che c'è un errore perché c'è scritto l'episodio 4 di 4, ma in realtà è l'episodio 1 di 4, e forse non dovrebbero essere tre gli episodi, di Marco Nucci ai testi Stefano Intini e disegni, Chine di Stefano Intini e Roberta Zanotta e i colori di Putra Shabin Bin Amshalil. Storia che inizia, come possiamo vedere, nel passato, ovvero a Glasgow in Scozia, tanti anni fa, dove vediamo un giovane Zio Paperone a cui viene regalata una cassetta da lustra scarpe dal papà, perché praticamente il papà voleva regalarle al compleanno, però non era ancora pronta a finire di costruirla per Natale. Vediamo Zio Paperone che è felicissimo. Vi devo dire anche che questa settimana è uscito il Free Comic Book Day. Nell'albo dedicato a Panini Disney ci sono due pagine introduttive di questa storia, anche se diciamo che possono essere anche a sé stanti, non sono influenti per capire la storia, inedite, solo presenti sull'albo Free Comic Book Day, che è presente nelle varie fumetterie dall'1 dicembre al 10 dicembre in maniera gratuita. Torniamo a noi alla storia, vediamo che Zio Paperone da piccolo decide subito di sfruttare il regalo per andare a lavorare e notiamo che fin da subito, fine giorni nostri, Zio Paperone detesta il Natale, lo detesta con tutto se stesso, ma quest'anno più del solito, notiamo anche che qui qua qua sono sorpresi di questa cosa, però il buon Battista fa notare loro che Zio Paperone ha ricevuto una lettera di risposta, ovvero un rifiuto da parte di Doretta Doremi, la sua prima fiamma, prima storica fiamma, di poter passare il Natale con lui. Lei risponde credo che sia meglio lasciare il passato al passato con affetto Doretta, quindi il povero Zio Paperone possiamo notare che è stato bidonato dalla sua amata per le feste di Natale, comunque grande ritorno di Doretta, anche qui mi è piaciuto molto come pretesto diciamo per far odiare ancora di più il Natale a Zio Paperone. I testi da notare, a parte i disegni di Intini che sono davvero molto molto belli, i colori di Putra Shabir Bin Jalil sono davvero fenomenali, ma i testi di Marco Nucci ragazzi, cioè sono forbiti, vediamo il linguaggio di Battista che è davvero colto, i termini aulici di Zio Paperone spettacolari, sembra una storia di Cimino ragazzi, davvero bellissima. Vediamo che Zio Paperone decide di non pensare più a tutte queste cose nefaste facendosi una passeggiata in mezzo al parco, però non sa che, come dice il buon Battista, durante il mese di Dicembre il parco di Paperopoli viene allestito un po' di mercatino di Natale, quindi Zio Paperone continua la sua tortura, fino a quando non si allontana un po', decide di allontanarsi dal centro del parco e arriva una strana nebbia. Strana nebbia introduce di nuovo il negozietto delle meraviglie del Dottor Piuma, Dottor Piuma ormai che è diventato un personaggio emblematico nelle storie del topolino attuale, inventato da Marco Nucci, questo particolare personaggio che vende a un dollaro degli oggetti molto ma molto strani, l'abbiamo visto con la storia di Macchia Nera in Topolino e l'Isola di Corallo, l'abbiamo visto adesso ad Halloween con la storia di Minnie, insomma questo personaggio ovunque in qualunque storia esso sia presente fa alzare il livello di tali storie in maniera assurda. Tornando a noi il Dottor Piuma, che in realtà non è un vero dottore, propone a Zio Paperone questa lampada particolare chiamata la lampada bisestile che permette con una sfregatina di esaudire qualsiasi desiderio. Zio Paperone all'inizio non si fa convincere però dopo cinque secondi torna indietro, paga il dollaro e esprime il desiderio ragazzi, il desiderio che il Natale non sia mai esistito. Sembra che non sia successo nulla, Zio Paperone va a dormire ma nel sonno compare questo spirito dalle fattezze molto particolari, molto inquietanti che a me sembrano in realtà le fattezze di Marco Nucci stesso, se voi andate a cercare l'immagine di Marco Nucci potrebbe somigliarli e adesso non so se è solo una mia impressione o meno se Intini si è ispirato a qualcun altro. Ma vediamo che quando Zio Paperone si sveglia tutto è cambiato, Zio Paperone si risveglia praticamente come se fosse in un'altra dimensione, vive in una villetta a fianco alla casa di Paperino, identica alla casa di Paperino in Via dei Platani, vediamo che indossa un pigiama e non la sua vestaglia, qui notiamo un dettaglio già molto importante, il calendario, calendario che non presenta il numero 25 dicembre e non finisce con il 31 ma con il 32 e quindi notiamo che Paperino addirittura non conosce Paperino perché passa e Paperino non conosce né Zio Paperone né Paperino, o meno li conosce solo di vista, quindi non sono fidanzati, Zio Paperone non abita più al deposito, abita in questa villetta e fa il ragioniere ragazzi, fa il ragioniere quindi è cambiato tutto, lui si ricorda ancora del Natale ma tutti gli altri no, non sanno cosa sia il Natale, anche i nipotini qui qua qua non sanno nulla, neanche la polizia, niente e nessuno, addirittura Zio Paperone si beccherà una denuncia per schiamarsi e vediamo che se la sta passando davvero male e quando va a dormire torna di nuovo questo spirito che gli dice che il desiderio è stato esaudito ma praticamente per far tornare tutto normale Zio Paperone dovrà fare qualcosa entro la vigilia di Natale, altrimenti questa realtà rimarrà per sempre quella senza il Natale. Ragazzi questa storia è l'incipit di tutto quindi ve l'ho spoilerata tutta ma dovevo spoilerarvela per farvi capire adesso anche il proseguo di questo album, perché? Perché qui ragazzi questo numero è tutto collegato, gli amanti della continuity, cioè i non amanti delle storie in continuity specialmente nel mondo Disney storceranno il naso ma io sono in brodo di giugio ragazzi, a me questo numero veramente adesso andiamo avanti ve lo dico subito, vediamo subito una sorpresa qui tra sette giorni l'album di figurine dei calciatori in anteprima nazionale uscirà in allegato con Topolino e io lo prenderò l'anno scorso come sapete, anzi quest'anno, ho completato per la prima volta l'album, un album dei calciatori, quello 2022-2023, prenderò quest'album ma questa volta non lo completerò perché ne basta uno, presi anche il cartonato andatevi a vedere il video se vi interessa andiamo avanti con la seconda storia dell'album, scritta da Sergio Badino, disegnato da Silvia Ziche con i colori di Martina Andonova, Paperina, ti presento Paperino la storia inizia, quindi vediamo già un ipotetico futuro che dovrebbe essere tutto a posto con Paperino che va al pranzo di Natale o forse è un Natale passato, vediamo che nonostante tutti i guai di Paperino, Paperina lo perdona sempre, vediamo qui gli occhioni dolci che Paperino fa Paperino e la storia inizia così, inizia con Paperino che sta a pensare alle parole di zio Paperone, lo zio Paperone in pigiama che dice Paperina è la fidanzata di Paperino anche se è un tipo strano non so come tu possa starci insieme ma si, si è la fidanzata di Paperino ma lui dice perché lo zione pensava che io e Paperino fossimo fidanzati? io sono infatuato di lei, mi è sempre piaciuta però non ho mai avuto il coraggio di dichiararmi quindi vediamo che questa storia ragazzi è ambientata nella stessa linea temporale, nello stesso universo, nella stessa dimensione chiamatela come volete, della prima storia, ovvero zio Paperone con il desiderio esaudito con la lampada bisestile ha alterato tutta la realtà, tutta la realtà di Topolino Libretto, cioè è una cosa bellissima ci hanno provato, hanno già usato questo espediente nella storia corale del pianeta Aramingo dove tutto era collegato in continuity, anche le storie di Paperuoga erano collegate ma qui ragazzi, qui la cosa è davvero grossa perché anche in questa storia non esiste il Natale Paperino non è fidanzata con Paperina chiederà aiuto a Pico per corteggiarla e vedremo anche che ci sarà Gastone Gastone che non è così fortunato quindi mi fa presumere già il futuro della prossima storia uscita sul Topolino prossimo adesso vedremo nell'anticipazione a fine albo e vediamo che farà di tutto per corteggiare Paperina con le tecniche insegnatoli da Pico qua vediamo questa vignetta mi ha fatto morire dopo che ho letto queste vignette mi sono messo a ridere ragazzi per dieci minuti come un cretino da solo davvero fenomenale qui Silvia Ziche ma anche i test di Badino sono davvero meravigliosi vediamo che questa non ve la voglio spoilerare ragazzi vi dico solo che alla fine non finirà benissimo ma avremo una nuova amicizia tra Paperino e Gastone cosa molto strana proseguiamo poi con Newton e Pico in viaggio nel sapere 32 ne fa dicembre anche questa storia ragazzi potrebbe sembrare la solita storia istruttiva di Newton e Pico che istruttiva comunque lo è ma ambientata sempre nella stessa linea temporale Newton grazie all'articolo uscito anzi grazie al telegiornale anche un articolo uscito sul giornale ha notato diciamo le escandescenze che ha avuto Zio Paperone parlando del Natale e quindi chiede a Pico come mai non esiste il 25 dicembre ma esiste il 32 e qui Pico racconta la storia la storia che parte come la storia vera ovvero le civiltà mesopotamiche tra il Tigre e le Ofrate che avendo problemi con l'assenza di riferimenti condivisi iniziarono a creare il calendario dai mesopotamici ci furono poi la civiltà di mesopape dei babilomeri scusate ovvero i babilonesi che grazie al re Ammupaper ovvero Ammurabi crearono il calendario da qui da questo calendario il calendario fu identico a come lo conosciamo noi tranne per il fatto che i mesi si chiamavano in modo diverso però i giorni erano gli stessi però una notte capitò una bufera le tavole con i 12 mesi una delle 12 tavole venne manomessa però senza tracce di scalpello quindi si tratta di magia quindi il re Ammupaper decide di sfidare questo mago che ha cambiato la tavola facendola rimodificare facendola ritornare normale però vediamo che la notte successiva si scatenò una bufera ancora più spaventosa e qui ragazzi vediamo lo spirito lo spirito di Marco Nucci potrei chiamarlo io che ha causato un disastro nella città e quindi Re Ammupaper si arrende e quindi deciderà di lasciare il calendario modificato con l'assenza del 25 dicembre e l'implementazione del 32 quindi la storia finisce qui anche questa ragazzi ve l'ho dovuta spoilerare però c'è da tanto da tante emozioni questa storia come tutte tutte le storie di quest'albo poi vediamo un articolo che qui mi ha fatto storcere un po' il naso ovvero Iride una costellazione satellitare che è un sistema di satelliti che l'articolo di Vittoria Stolfi è molto interessante però questo articolo doveva secondo me andare assieme alla storia dell'albo precedente quella di Gagnor in merito ai satelliti Irpaper penso che ve la ricordiate e quindi stranamente è comparsa su quest'altro numero poi torna la rubrica disegni con gli artisti di Topolino in questo caso con Casti niente poco di meno che con Casti che ci disegna il buon faccione di Topolino e poi abbiamo anche una bellissima intervista a Casti ci dice che è iniziato su Topolino nel 2003 guarda caso quando io ho smisi di leggere Topolino e poi un altro bel articolo di Jacopo Giovannitti è Alex Bertani ovvero da direttore a direttore Alex Bertani ha incontrato Jennifer Lee ovvero la direttrice creativa di Walt Disney Animation Studios ovvero il capoccione anzi la capocciona del progetto di tutti i progetti dedicati ai lungometraggi Disney davvero molto molto interessante questa intervista e poi ragazzi quest'altra storia mamma mia è un tripudio di emozioni questo numero di Topolino ragazzi Paperoga in nero 25 dicembre diverso tempo fa vediamo che Paperoga si vestiva di nero da piccolo però grazie a Babbo Natale che ha portato a nonna Papera un regalo per Paperoga ovvero un bel maglione rosso con il tipico cappellino rosso e quindi Paperoga felicissimo decide che si vestirà per sempre così e da grande vorrà diventare come Babbo Natale e se non potrà aiutarlo nel dispensare regali a tutti i bambini allora invece dei regali si farà venire in mente un sacco di idee brillanti per rendere le persone felici ebbene però questo albero di Topolino come abbiamo detto prima è stravolto perché siamo in una realtà dove il Natale non è presente e quindi tempo presente 8 dicembre troviamo un Paperoga dark ma più dark che non si può questa storia non ve la voglio spoilerare ragazzi questa è di scusate non ve l'avevo detto anzi non vi ho detto nemmeno quella di Newton e Pico Newton e Pico in viagione a sapere Giorgio Fontane ai testi Donald Soffritti ai disegni ai colori di Emanuele Verzi Paperoga e Nero di Gaia Righini ai testi Enrico Faccini ovviamente ai disegni ai colori di Valentina Mauri scusate ma sono ancora veramente sono emozionato dopo la lettura di questo numero vediamo anche Paperino sia Brigetta che Paperino vanno a trovare il Paperoga emo potremmo dire Paperoga dark e vediamo che Paperoga si imbatte anche in Zio Paperone Zio Paperone che ovviamente è lo Zio Paperone della nostra realtà della realtà normale dove il Natale è presente che diciamo in becca un po' Paperoga gli dice che in realtà il Natale è bello e inizia quindi a rivalutare il tutto vediamo anche che non vi dico più niente perché no dovete leggere perché questa storia è anche bella e poi ragazzi storia di Marco Nucce e testi casse e disegni qui vabbè Marco Nucce preponderante in questo albo lo sappiamo con i colori di Manuel Giarolli ovvero Topolino nel mondo senza macchia inizia la storia sempre con le festività natalizie però dopo la notte Topolino si sveglia e vede che è scomparso tutto del Natale gli addobbi l'albero che aveva preparato Minni le luminari e furi e oltre ad essere scomparso il Natale è scomparso anche Macchia Nera perché perché un trisavolo di Macchia Nera come Topolino ha letto in un archivio della polizia nacque a Natale il 25 dicembre e purtroppo oltre che Macchia Nera è sparito anche Pippo ragazzi anche Pippo Pippo perché aveva un bis bis nato il 25 dicembre quindi chiunque sia nato il 25 dicembre è cessato di esistere in questa realtà e così i suoi discendenti però Topolino continua a sognare Macchia Nera e forse grazie a questo legame legame che ha da quando è stato scambiato con il corpo di Macchia Nera durante la storia dell'isola di Corallo forse per questo Topolino si ricorda ancora del Natale mentre tutti si sono dimenticati oltre che di Macchia Nera di Pippo ma anche del Natale e quindi Topolino non riesce a rimanere impassibile deve indagare fino in fondo va anche al commissariato però Basettoni non si ricorda di lui perché non si ricorda di lui perché Topolino conobbe il commissario Basettoni proprio grazie a Macchia Nera o a causa di Macchia Nera e quindi Topolino farà in modo di capire come mai il Natale non c'è più Macchia Nera non c'è più e soprattutto Pippo non c'è più ragazzi mi ha dato una tale tristezza vedere Topolino qui guardare la casa di Pippo vuota mamma mia ragazzi questa è spoilerosa questa puntata del Topolino però non posso fare altrimenti devo dirvi devo dirvi tutto quello che ho provato perché ci sono sensazioni davvero bellissime e la storia si chiude anche qui con un cliffhanger Topolino legge grazie a Minnie il Calisotom server dove c'è un articolo che parla di un anziano che dà spettacolo per la via del centro e qui si accende la speranza guardate la faccia di Zio Paperone poi vediamo l'angolo dei lettori l'anticipazione dei numeri che escono questa settimana presi tutti e tre sia i grandi classici i classici non devono ancora arrivare però li prenderò e l'anticipazione della prossima settimana con questa bellissima cover con il trettico di cover continua Zio Paperone una lampada bisestile ecco episodio 2 di 3 quindi qui è stato proprio sbagliato in realtà sono tre episodi così come i numeri di Topolino speciali che vanno a comporre il mosaico Cornelius il giorno del cuore e anche qui ragazzi secondo me anche questa storia di Cornelius sarà ambientata in questa realtà alternativa quindi forse invece di festeggiare il Natale celebreranno questo giorno del cuore Battista è l'amico fenomenale l'ispettore Manette il ribalzo giusto e Gastone Archimede l'invenzione della fortuna anche qui io sento odore di storia collegata sempre con questa nuova realtà ragazzi che dire questo è un numero di Topolino che a me è piaciuto tantissimo io non posso che dargli 10 e non faccio nemmeno la classifica perché tutte le storie mi sono piaciute davvero tantissimo ma tutte tutte quante tutte quante mi hanno dato ognuna un'emozione diversa c'è la storia di Zio Paperone che mi ha fatto prima sorridere poi mi ha fatto intristire per il discorso di Doretta poi mi ha fatto arrabbiare anche con lo Zio Paperone poi vediamo la storia di di Paperino che corteggia Paperina che è davvero bellissima mi ha fatto sganasciare dalle risate vediamo la storia di Paperoga Dark che pure mi ha fatto un po' intristire però mi ha fatto anche sorridere sul fatto di come lui sia diventato il Paperoga che conosciamo noi grazie a un regalo di Babbo Natale e poi la storia di Topolino Finale mamma mia ragazzi la storia di Topolino Finale con la scomparsa di Pippo mi ha fatto emozionare nel senso che mi ha fatto commuovere ragazzi mi ha fatto davvero commuovere quindi questo per me io lo dico così veramente dopo averci pensato anche molto è il numero di Topolino più bello degli ultimi 30 anni per quanto mi riguarda ditemi quello che volete ma io la penso così fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero 3550 scusate per i troppi spoiler metterò un avviso forse direttamente in copertina ma purtroppo mi sono lasciato andare non è da me ma volevo veramente narrarvi le storie vero o male che sono richiuse in questo albo sono tutte davvero belle ripeto forse le persone i più amanti del Topolino ma diciamo i fan quelli più come posso dire conservatori ecco di Topolino storceranno il naso perché vedere questa continuity così serrata in tutte le storie presenti nell'albo appunto a qualcuno a qualche vecchio affezionato può non piacere ma a me invece questa cosa fa impazzire tanto lo sapremo ragazzi tra due numeri ritornerà tutta la normalità però questi tre numeri di Topolino che andremo a comprare che andremo a leggere in queste tre settimane fino a Natale saranno qualcosa di fantastico ma è successo sulla storia del Topo ragazzi con questo è tutto io vi saluto vado a caricare il video ciao ciao ciao